... Omicidio a Diamante si costituisce l'assassino. Forse una spinta avrebbe scatenato la rissa finita con l'uccisione a coltellate di un giovane di 23 anni. In carcere a Secondigliano, il 19enne napoletano accusato di omicidio. Si cercano i complici che hanno partecipato all'aggressione. Spari sulla polizia, paura nel napoletano. Due giovani a bordo di uno scooter hanno esploso colpi di pistola contro gli agenti a San Giovanni a Teduccio. La patuglia stava indagando sul furto di un motorino. Un poliziotto si è ferito cadendo nel corso dell'inseguimento. Piantedossi indagato ma sono sereno per il caso della nave 18 insieme a Salvini. Sotto inchiesta anche la vellinese Matteo Piantedossi. Il capo di gabinetto si dice tranquillo al fianco del ministro e chiarisce il viminale a agito bene. Rifiuti in spiaggia blitz di costa a Eboli. Continua la campagna per la tutela di mare e spiagge del ministro dell'ambiente che ha partecipato all'iniziativa del Movimento 5 Stelle sulle località turistiche salernitane. Da Eboli l'appello per dire basta alla plastica. Rogo nello stir via Le Coballe proseguono a Casalduni nel Sannio le operazioni di spegnimento del maxincendio che ha distrutto l'impianto di smaltimento dei rifiuti. Oggi nuovo vertice in prefettura per limitare l'emergenza. Bilancio Ciampi attacca Foti e il PD. Stamane al comune di Avellino si è insediato il commissario ad acta per fare chiarezza sui conti. Il sindaco annuncia parte l'operazione Verità sulle magagne del passato. Metteremo le mani nel fango. Eccoci, questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio dal Tg regionale del canale 696. In primo piano l'omicidio di Diamante. Si è costituito un ragazzo di 19 anni napoletano per l'omicidio di un altro ragazzo, un giovane di soli 23 anni che è morto a coltellato, forse semplicemente a causa di uno spintone. Vediamo. Morire per nulla, forse per uno spintone che ha portato alla morte di un giovanissimo in una notte d'estate. Sarebbe bastato forse tanto poco per far sfoderare il coltello dalla tasca di un ragazzino di soli 19 anni che stava in vacanza a Diamante in Calabria. E' morto così il 23enne Francesco Augieri. A distanza di quattro giorni il presunto assassino si è costituito. Accompagnato dal padre e dal suo avvocato ai cancelli del carcere di Secondigliano ha bussato Francesco, 19enne napoletano, già note alle forze dell'ordine per aver compiuto furti nelle scuole. Voglio costituirmi, ha spiegato agli agenti che immediatamente lo hanno preso in custodia avvisando l'autorità giudiziaria. Il giovane indiziato, sulle cui tracce c'erano i carabinieri di Scalea, presentava ferite al volto che avvalorerebbero il suo pieno coinvolgimento nella lite nata per futili motivi nelle vie antistanti il centro storico di Diamante. Gli investigatori infatti sarebbero adesso sulle tracce di altre persone che avrebbero preso parte a quella rissa. Nei confronti del 19enne la procura di Paola ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, firmato oltre che dal procuratore anche dal sostituto. I militari di Scalea, che erano sulle sue tracce con il supporto dei colleghi di Napolistella, avevano effettuato numerose perquisizioni a casa sua e dei suoi parenti. Il presunto assassino si è costituito nel giorno dei funerali di Augeri, funerale che è stato celebrato da Monsignor Salvatore Nunnari. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro all'uscita della messa, accesi anche alcuni fumogeni rossi e blu, in ricordo della fede calcistica del ragazzo tifuso del Cosenza. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro una pattuglia della polizia impegnata a rintracciare gli autori della rapina di uno scooter. Il fatto è accaduto la scorsa notte a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Un poliziotto, nell'inseguire i malviventi, è caduto e si è ferito. Tutto è nato dalla segnalazione di un giovane che ha chiesto l'intervento della polizia denunciando di aver subito poco prima il furto del suo scooter. Il giovane stava mostrando agli agenti l'applicazione del suo smartphone che consentiva di localizzare il mezzo. All'improvviso sono giunti due sconosciuti in sella ad un altro scooter che hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria per poi allontanarsi. Gli agenti li hanno inseguiti, ma lungo la strada i malviventi hanno esploso altri colpi di arma da fuoco all'indirizzo della pattuglia. Uno dei poliziotti è caduto a terra e i malviventi si sono dileguati a piedi. Il caso della nave 18, insieme al ministro Salvini, indagato anche il prefetto Irpino, Matteo Piantedosi. Il capo di gabinetto però si dice sereno, al fianco del ministro. Il diminale è nel mirino, ha detto, ma ha agito bene. Secondo i magistrati della procura di Agrigento, che indaga sul caso dei migranti rimasti bloccati a bordo della nave 18, sarebbe stato il capo di gabinetto del Viminale, Matteo Piantedosi, a trovare l'escamotage per bloccare l'imbarcazione militare italiana nel porto di Catania. Nei suoi confronti, così come per il ministro Salvini, ipotizzati reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Il prefetto avellinese, prima scelta del leader leghista, gode di una reputazione di ferro e della massima fiducia del titolare del Viminale. Il giorno dopo la notizia, che ha scatenato uno scontro senza eguali tra i poteri dello Stato, il prefetto Piantedosi si dice molto sereno e difende il suo operato. Non abbiamo violato alcuna legge. Il Viminale si è mosso bene, ha dichiarato a chi è andato a trovarlo. Piantedosi in questo momento si trova in ferie. La grana delle accuse mossa nei suoi confronti dalla procura grigentina sembra non lo abbia turbato più di tanto. Il suo rapporto con Salvini, dice, non è in discussione. Confussione, anzi si è addirittura rafforzato, è convinto che la gestione del caso della nave di Ciotti abbia seguito tutte le regole. Non solo, sarebbe anche disposto a fare esattamente le stesse cose, a confermare che l'ordine di bloccare la nave sia arrivato direttamente dal capo di gabinetto del Viminale, i due prefetti, Pantalone e Corda, interrogati a Roma dal procuratore di Agrigento. Una cosa è certa, malgrado la determinazione e l'apparente compattezza della squadra del Viminale, la vicenda della nave di Ciotti è destinata a lasciare il segno. Due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in provincia di Avellino con un epicentro a Caposele. La magnitudo è stata di 2.2 e 2.4. Le due scosse sono avvenute poco prima della mezzanotte, a distanza di qualche minuto l'una dall'altra. Non ci sono stati danni. L'agosto 2018 si sta rivelando complesso per l'Italia dal punto di vista sismico. Basti pensare alle scosse di terremoto in Emilia-Romagna, allo sciame sismico in Molise, con movimenti tellurici avvertiti nitidamente anche in Campania. Continua la campagna per la tutela del mare e delle spiagge del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha partecipato all'iniziativa del Movimento 5 Stelle sulle località turistiche salernitane. Giovanni Battista Lanzilli. Una doppia azione. Da un lato liberare la spiaggia dai rifiuti di plastica, dall'altro sensibilizzare le persone sulla necessità di ridurre drasticamente la produzione di imballaggi che inquinano il litorale e il mare. Il Movimento 5 Stelle è protagonista di una campagna che ha interessato le spiagge salernitane. Da Praiano a Battipaglia, da Salerno ad Agropoli e Sapri, passando per Amalfi e Ponte Cagnano in campo non solo i parlamentari grillini, ma anche il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha partecipato al presidio sul litorale di Eboli. Per sensibilizzare, informare, iniziare un percorso plastic free, cioè non utilizziamo la plastica usa e getta, utilizziamo il biocompostabile, utilizziamo tutto ciò che non inquina, non inquina il territorio e non inquina il mare. Da tempo l'ufficiale dei Carabinieri, prestato alla politica, sta sensibilizzando sul rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema marino, in particolare nell'ambito della campagna Io sono Plastic Free. I parlamentari pentastellati hanno annunciato che le attività di sensibilizzazione continueranno anche nelle prossime settimane. E si continua a lavorare senza sosta per spegnere ancora le fiamme che hanno distrutto lo stir di Casalduni nel Sannio. Questa mattina, nuovo vertice in prefettura per limitare l'emergenza. Nelle prossime ore a Casalduni arriveranno i tecnici di una società portoghese per effettuare un sopralluogo alle eco-balle che finiranno in un loro impianto di termovalorizzazione. Gli specialisti che arriveranno dal Portogallo vogliono effettivamente rendersi conto che genere di rifiuti dovranno prelevare. Oggi nuovo vertice in prefettura tra la Samte e le forze dell'ordine con i vigili del fuoco di Benevento. Per fare il punto della situazione in merito all'incendio appiccato all'alba di giovedì e che ha praticamente distrutto quasi tutto l'impianto di tritovagliatura che lavora i rifiuti di tutto il Sannio. L'amministratore unico della Samte, Fabio Solano, elencherà le attuali criticità al prefetto Cappetta mentre i pompieri e le forze dell'ordine relazioneranno in merito allo spegnimento del maxirugo. Allo Stato continuano le operazioni di copertura con della sabbia dei rifiuti ancora in fiamme. I camion invece stanno prelevando e portando ad Acerra le coballe destinate al termovalorizzatore campano. Operazione indispensabile per creare spazio all'interno dei piazzali dello stir di Casalduni. Colmo di rifiuti sia da lavorare che già imballati e pronte per le linee del termovalorizzatore. Una situazione che era già stata al centro di una riunione in prefettura dove proprio l'amministratore unico della Samte aveva lanciato l'allarme. Qualche settimana prima dell'incendio. E si segue la pista della criminalità organizzata invece per il rogo che si è scatenato ieri a Maddaloni provocando anche una densa nuvola di fumo nero. Il rogo ha interessato un deposito contenente soprattutto cassette di plastica. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere sta cercando di fare luce sull'episodio e non viene trascurata nessuna pista. Nell'incendio sono stati danneggiati anche un tir e un escavatore. L'ARPAC sta verificando i danni ambientali in particolare per le coltivazioni della zona. In passato il proprietario del deposito che si occupa della vendita e dell'acquisto di cassette quasi dieci anni fa fu vittima di un attentato del racket presso la sua abitazione. Cambiamo argomento. Andiamo ad Avellino. Al Comune si è insediato questa mattina il commissario ad acta per il bilancio. Una situazione dei conti estremamente difficile con un buco da 17 milioni di euro. Angelo Giuliani. Al Comune di Avellino è il giorno del commissario prefettizio per il bilancio Mario Tommasino. Si è insediato in mattinata e subito ha avuto un primo confronto con il sindaco Ciampi, l'assessore alle finanze Gianluca Forgione e il dirigente del settore finanze Gianluigi Marotta. Tommasino non troverà una situazione facile. Proprio Forgione ha svelato i numeri della ricognizione sui conti. Ci sono pagamenti in sospeso per 17 milioni di euro. Un buco difficilmente sanabile. Da oggi scattano i 30 giorni per Tommasino per rielaborare il consuntivo che poi dovrà essere approvato in aula pena lo scioglimento immediato del Consiglio Comunale. Ma intanto lo scontro politico non si placa. Il sindaco Ciampi su Facebook scrive dobbiamo debellare anni di marcio nella nostra città anni in cui maggioranza e opposizione hanno banchettato alle spalle dei cittadini. Ora il commissario ad acta metterà le mani nel fango un commissario del governo che certificherà l'inizio dell'operazione Verità che è sempre stato il nostro primo punto nella campagna elettorale. Non si fa attendere la risposta di Dino Preziosi sono cinque anni, scrive il consigliere di opposizione che sto gridando che i conti sono ondivaghi. Sono convinto che il predissesto non sia più sufficiente. Oggi non le consento di dire che la maggioranza e l'opposizione hanno banchettato sulle spalle dei cittadini. La smetta di dire cose non vere. E poi l'affondo finale. Le consiglio sindaco, prima di dire pubbliche bugie, di mettere in moto il cervello. A Salerno spaccio, prostituzione, commercio abusivo. Il questore Ficarra annuncia la linea dura. Impegno costante contro i fenomeni criminali che attanagliano non solo la città ma in generale tutto il centro-sud. Spaccio, prostituzione e ambulantato abusivo. Su questi tre fronti si è concentrata l'azione della questura di Salerno durante la stagione estiva e anche nei mesi a venire. Lo ha assicurato il questore Maurizio Ficarra che questa mattina ha presenziato la cerimonia di commemorazione per gli uomini in divisa uccisi a Salerno dalle Brigate Rosse nell'agosto del 1982. Sono fenomeni gravi, seri, non dico permanenti ma tutto il centro-sud, purtroppo soprattutto il centro-sud è pervaso da questi comportamenti. Ma noi qui a Salerno, guardate che abbiamo fatto delle cose veramente incredibili. Sono tre, quattro mesi che noi ci dedichiamo pienamente a questa attività, al contrasto della vendita allo spaccio di sostanze stuprofacenti alla prostituzione, al commercio abusivo ambulante cui lei faceva riferimento e vi invito a consultare il nostro sito web della questura di Salerno per vedere giorno per giorno tutto quello che noi facciamo. Io mi ritengo moderatamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto finora. La guardia resta chiaramente alta. Certamente, quello non ci piove. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità civili, militari e religiosi presenti anche i familiari delle tre vittime morte nell'adempimento del dovere che hanno tracciato un ricordo dei loro congiunti uccisi dal terrorismo brigatista. Io sono orgogliosa di lui. Sono passati anni, però era una splendida persona. Ma dentro, ecco, ogni anno si rinnova sta ferita. La cicatrice c'è sempre comunque. Presidio questa mattina a Benevento davanti al Palazzo del Governo per i 120 lavoratori rimandati a casa dopo la chiusura dei centri migranti travolti dall'inchiesta della Procura Sannita. Maria Teresa De Lucia. 120 lavoratori a casa, senza stipendi, senza prospettive, senza alcuna spiegazione. È una delle conseguenze della chiusura di diversi centri migranti travolti dall'inchiesta della Procura Sannita. Lavoratori che questa mattina hanno manifestato il loro disappunto davanti al Palazzo del Governo prima di incontrare il prefetto di Benevento, Francesco Cappetta, con i dipendenti dei centri di accoglienza stranieri e anche l'Unione sindacale di base. È stato fatto un intervento di chiusura di circa 20 centri di accoglienza. Lavorano 120 lavoratori che dall'oggi a domani sono rimasti senza lavoro, in primo luogo, ma sono rimasti anzi senza aver ricevuto quelle che sono le aspettanze arretrate. Oggi noi chiederemo in prima battuta un intervento per il pagamento delle aspettanze arretrate e ovviamente in proseguo chiederemo anche qual è la prospettiva occupazionale per questi 120 lavoratori, per i 120 famigli. C'è anche questione dei migranti proprio che quelli oramai erano già strutturati nella provincia di Benevento quindi sono stati un po' dislocati sul territorio campano. Molti di questi che stanno anche con USB perché fanno la scolarizzazione, quindi tutto un processo anche di integrazione importante. Quindi c'è una dubbliche situazione che secondo noi va affrontata e va anche definita in tutti i suoi aspetti. È proprio la prefettura che eroga quelli che sono i proventi alla fine del mantenimento dei centri e quant'altro. Quindi in maniera sostitutiva si può anche assumere la responsabilità della prefettura a meno per incominciare a pagare quelle che sono le aspettanze arretrate. Ritorna la nostra rubrica SOS Città per la segnalazione dei disservizi da parte della cittadinanza. Oggi siamo andati nella villa comunale di Avellino. Da oggi 8 Channel è la voce della città pronti a segnalare disservizi e situazioni di degrado dei nostri capoluoghi campani. Cominciamo con la segnalazione dei cittadini che arriva da Via Cristoforo Colombo ad Avellino e che riguarda la villa comunale dove regna incuria e abbandono. Entrando ci accoglie la prima fontana rigorosamente chiusa lì dove dovrebbe esserci lo zampillio dell'acqua solo cartacce e rifiuti. Non se la passa tanto meglio l'area giochi poca manutenzione se non addirittura come in questo caso un'altalena vandalizzata e la sicurezza dei più piccoli messa a forte rischio. I contenitori per i rifiuti vuoti con l'immondizia però sparsa dovunque tra l'erba alta. Persino gli alberi non sono stati risparmiati dall'inciviltà dei Writers. Proseguiamo e scopriamo che anche la seconda fontana è fuori servizio neanche lei esente dal diventare ricettacolo di sporcizia. Rinfrescarsi con una bevuta d'acqua diventa persino un lusso perché entrambe le fontanine sono state messe fuori uso. Insomma una storia che a distanza di qualche anno dalla nostra prima segnalazione tristemente si ripete. Passano le amministrazioni ma il risultato non cambia. Spazi verdi degradati sempre meno frequentati dagli avellinesi e sempre più abbandonati. L'SOS è stato lanciato speriamo venga raccolto presto dal sindaco Ciampi. Entra nel vivo la rassegna Benevento Città Spettacolo stasera l'attesa è tutta per Nino Frassica ieri sera spazio al cinema con Maurizio Mattioli. Maurizio Mattioli a Benevento per il primo appuntamento con pellicole nel cassetto la nuova sezione di Città Spettacolo che per la 39esima edizione apre al cinema e lo fa con una serie di incontri al San Marco dedicati alle pellicole prodotte e mai viste. Prima giornata dedicata al film Il tramite di Stefano Reali che insieme a Mattioli ha incontrato la stampa per poi assistere alla proiezione una novità del festival che ha particolarmente colpito l'attore romano. Stefano ci ha messo un pezzo della sua vita per questo film io sono qui proprio per lui più che per me perché so con quanto amore l'ha voluto fare l'ha scritto l'abbiamo faticato molto e poi non vederlo uscire per un regista per un autore è qualcosa di brutto. Una prima dunque inaspettata e molto apprezzata dall'attore che ha parlato anche del Sannio e della città di Benevento che già aveva avuto modo di visitare più volte. Ho fatto due o tre partite del cuore qua con gli attori io non giocavo però ho sempre seguito la squadra della nazionale. Per l'occasione Mattioli ha raccontato anche dei progetti che lo hanno impegnato in questo periodo e del futuro. Ho fatto un teatro all'aperto che è una rassegna che fanno Romagnano si chiama all'ombra del Colosseo e poi boh aspetto del bello del mestiere è questo aspettare. È tutto per questa edizione grazie per averci seguito in regia Aldo Fenizia adesso ci sono le previsioni del tempo arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.